È arrivato il momento di un approfondimento legato alla Lega Pro con noi in studio. Tommaso Mieli, che è il commissario straordinario della Lega Pro, ben ritrovato. Buonasera, buonasera. Buonasera a lei. In carica da esattamente un mese. Sì, sono stato nominato il 7 luglio dal Consiglio federale della FIGC e quindi è un mese quasi ormai che sono nelle mie funzioni. Spieghiamo come è stato scelto. È stato scelto dopo le dimissioni di Macalli che si era dimesso dopo la bocciatura da parte dell'Assemblea di Lega Pro per non aver approvato il bilancio 2013-2014. Allora, siccome lei è un magistrato e non un uomo di sport, vorrei capire cosa si intende per commissario straordinario della Lega e soprattutto se era necessario un uomo di legge per rimettere a posto i conti della Lega. Ma guardi, intanto un periodo di commissariamento viene dopo, ecco lei ha ricordato, le dimissioni del Presidente Macalli, quindi dopo che la governance ordinaria viene meno, c'è un periodo transitorio sicuramente in cui il periodo di commissariamento deve creare una sorta di continuità nella gestione, appunto in questo caso della Lega Pro. Perché sono stato scelto? Io credo, io ripeto, sono un uomo di legge, io sono un magistrato, quindi sono stato scelto forse perché si voleva anche lanciare un segnale dopo gli eventi che sono accaduti in Lega Pro. Infatti credo che, ecco, la stampa lo ha messo molto in evidenza subito dopo la mia nomina, il fatto che sia stato scelto un magistrato, credo che abbia anche un significato, un messaggio per rilanciare e risanare un ambiente, quello del calcio, nel mio caso, quello della Lega Pro, in cui sono accaduti eventi che, ecco, bisognerà impegnarsi affinché non accadano più, perché minano l'intero sistema. Infatti io, una delle prime cose che ho fatto, ecco, ho già programmato un forte implemento dell'attività di Integrity, proprio per, come dire, lanciare dei messaggi a società e calciatori di risanamento di quest'ambiente. Un'altra cosa, ecco, che mi permetto di ricordare sempre in quest'ambito, mi piace ricordarlo, che a livello federale, ma da parte delle tre leghe, Serie A, Serie B e Lega Pro, è stato anche adottato in questi giorni, proprio, ecco, in occasione del Consiglio federale dell'altro giorno, del 4 agosto, il codice di onorabilità, perché chi entra nel mondo del calcio deve essere un soggetto sano e solido dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista morale. Anche per tutto quello che muove poi il calcio, ne so, in desiderio, i tifosi e le passioni. Posso chiederle che tipo di situazione ha trovato quando si è insediato? Ma guardi, sicuramente un commissariamento interviene perché c'è stato qualcosa che non ha assicurato poi la continuità. Nel caso di specie, ecco, una delle mission fondamentali del mio mandato è quella di approvare il bilancio, perché il bilancio 2013-2014 della Lega Pro non è stato approvato. Quindi questa è sicuramente una delle mission fondamentali del mio mandato, insieme a quella di ricreare le condizioni per svolgere le elezioni per la nuova governance. Io ho mandato a termine perché fino al 31 ottobre spero di riuscire a portare a termine le due mission fondamentali entro questo periodo, ma nel frattempo, non nascondo, bisogna anche assicurare la continuità ordinaria della Lega Pro. Però non ultima, io non appena insediato, ho dovuto provvedere immediatamente a tutte le incombenze che erano legate alle iscrizioni, poi alla fase dei ripescaggi. Ora siamo nella formazione anche dei gironi. Entriamo allora nello specifico perché abbiamo detto che sarà un'annata di grande cambiamento per quanto riguarda la Lega Pro, questa riforma del campionato, una riduzione che arriva di squadra rispetto a quanto deciso due stagioni fa. E' anche un fallimento di quello che era stato fatto? Ma guardi, io non parlerei di fallimento perché giustamente è una selezione che è avvenuta quasi naturalmente. Quest'anno ci ritroviamo con un format, ad oggi dico 53 squadre, dopo i ripescaggi deliberati in occasione del Consiglio federale dell'altro ieri, di martedì 4 agosto. 53 squadre, c'è però una 54esima squadra che va a sostituire una squadra, il Castiglione, che ha ritenuto di non iscriversi. Quindi in sostituzione verrà un'altra squadra dalla serie minore e quindi si formerà un format di 54 squadre, io presumo, al netto di quelli che sono gli eventi della giustizia sportiva. Perché non bisogna dimenticare che ci sono una serie di fatti all'esame della giustizia sportiva. Però ad oggi posso dire che abbiamo sostanzialmente 53 più una che verrà in sostituzione, 54 squadre, quindi tre gironi da 18 presumibilmente. Noi siamo sicuramente, come si dice, sul pezzo, quindi vorrei approfittare anche per dire non siamo in ritardo, sia con riferimento alla formazione dei gironi, sia con riferimento alla presentazione del calendario, sicuramente siamo legati ai tempi della giustizia sportiva e anche della serie B. Ma non siamo in ritardo, quindi stiamo monitorando la situazione e quindi escludo che il campionato, come pure è stato detto magari da qualche fonte di informazione, escludo assolutamente che il campionato possa subire uno slittamento. Assolutamente no, io credo che il 6 settembre si possa partire. Sicuramente importante come puntualizzazione, intanto stiamo vedendo le immagini del Como, che forse è una delle pagine più belle per quanto riguarda il calcio in questa stagione. Parlando invece delle pagine meno belle, meno piacevoli, quelle che abbiamo vissuto nell'estate appena trascorsa. Vorrei capire da lei operativamente se è stato preso in esame ovviamente il caso e quali sono i mezzi che avete a disposizione per cercare di contrastare questo tipo di situazioni. Ma guardi, al di là dell'aspetto sanzionatorio che è di competenza a livello federale poi degli organi di giustizia sportiva, la Lega Pro per quanto ci riguarda in particolare non può che fare una forte azione, e io sto dedicando molto impegno e molte energie in questo, perché da magistrato vorrei lasciare il segno proprio su questo, una forte azione di incentivazione, come dicevo prima, dell'azione di integrity, cioè di sensibilizzazione dei presidenti delle società e dei calciatori. Guardate, non potete immaginare, e lo dico pubblicamente, le ricadute negative che ci sono sul sistema calcio. Io sono reduce anche in giornata da alcune trattative per diritti televisivi, perché chiaramente se diventa un prodotto inquinato non è più vendibile, non ha più valore. Quindi veramente il sistema va difeso, risanato, perché solo in questo modo si salva il sistema calcio. Quindi io sono per la fissazione di regole severe, sensibilizzazione ai massimi livelli di calciatori, di società, e poi sicuramente anche la fase sanzionatoria deve avere il suo corso, perché bisogna essere severi poi nell'applicazione delle regole. Solo così si salva il sistema, e soprattutto solo così non si tradisce la fiducia dei milioni di tifosi che ripongono la loro attenzione e la loro fede sportiva nel calcio. Toleranza zero. Toleranza zero, io sono per la tolleranza zero. Intanto è arrivata anche una notizia importante, interessante, cioè a Rigoni che è stato eletto il nuovo CT della rappresentazione. Sì, io proprio ieri l'ho incontrato, lo presenteremo in occasione della presentazione dei calendari, che presumibilmente avverrà, vedremo, siamo un po' a ridosso perché condizionati anche dal calendario della Serie B, per via della sovrapposizione di alcuni stadi, e quindi sicuramente verso fine mese faremo la presentazione dei calendari. però già ieri l'ho ricevuto, gli ho augurato buon lavoro, so che lui ha un passato, una carriera sicuramente, ecco, non solo, ma di tutto rispetto, quindi gli ho augurato buon lavoro. Ho riposto tanta fiducia nel suo lavoro perché credo anche che dal punto di vista tecnico una delle mission fondamentali della Lega Pro sia soprattutto quello di investire sui giovani, quindi sui settori giovanili e sulla territorialità. Quindi ecco, abbiamo fatto, elaborato anche un programma di lavoro per avviare un progetto di selezione e di lavoro appunto del nuovo CT. Cioè, parlato della riforma in termini di campionati giovanili, noi siamo sempre attenti alla Lega Pro e abbiamo notato come lei si è attivo sui social, ma che l'unica via di accesso alla Lega Pro sia il sito ufficiale. E allora, perché non un'apertura anche ai social, Facebook? Ma io sono favorevolissimo, anzi ho già in questo senso sensibilizzato anche il nostro ufficio stampa, il nostro ufficio comunicazioni, perché ci terrei molto a sviluppare anche questo settore della comunicazione, che è il nuovo modo di comunicare. Infatti io sono uno presente su Twitter, ma lo ero già prima, nella mia funzione ancora attuale di presidente dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti e sicuramente quello è un modo di comunicare che io prediligo, anche perché avviene in tempo reale e soprattutto è un modo per comunicare con immediatezza, per lanciare con immediatezza dei messaggi e dei segnali, per veicolare nella maniera più celere possibile la comunicazione. Quindi non ci aspettiamo una Lega Pro più giovane, più aperta al pubblico, con Twitter, Facebook? Soprattutto più vitale, più trasparente, non perché io ho ringraziato anche la governance che mi ha preceduto per il lavoro svolto, però quindi io vorrei superare, e credo veramente di assolvere, sarei soddisfatto nell'assolvere il mio mandato, se riuscissi a superare anche quelle situazioni, ahimè, di divergenze, di contrasti a livello di società, ma anche a livello, ecco, proprio di ambiente del mondo del calcio in genere, parlo non solo della Lega Pro, ecco, se si riuscisse a ricreare un clima di pacificazione perché se ne giova il sistema, il calcio è lo sport più bello del mondo, anch'io da ragazzo non si direbbe ma ho giocato a calcio e quindi, come dire, a me piace moltissimo, io ci credo, bisogna rilanciarlo perché un sistema calcio pulito, sano, credo che acquisti non solo valore ma soprattutto se ne giovano le società, io credo, perché un mondo del calcio sano, un sistema calcio sano, credo che abbia una ricaduta in termini positivi nei confronti dei tifosi soprattutto, delle società, dei calciatori e soprattutto credo che la Lega Pro possa essere veramente il bacino per il lancio dei giovani, noi andiamo ad attingere spesso al mercato dei calciatori stranieri, io credo che ecco in Lega Pro ci siano tante belle promesse, tante belle speranze e io credo di fare un buon lavoro anche in questo. Avrà tanto lavoro, le idee ci sono, le basi ci sono, quindi sicuramente non ci resta che augurare il buon lavoro allora. Grazie, ce n'è bisogno perché di lavoro ce n'è tanto e ci sono anche tanti problemi che richiedono tanto impegno e ce lo mettiamo tutto, ma speriamo anche tanta fortuna. Allora in bocca al lupo allora, ti seguiremo. Grazie, grazie ancora a Tommaso Miele, commissario straordinario della Lega Pro. Ci salutiamo noi invece Tommaso, ci fermiamo qualche istante, torniamo qui a 16.30, tra pochissimo per una nuova edizione del nostro telegiornale, restate qui.